buongiorno a tutti questa un'edizione speciale relativa ai dati che sono usciti sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli stati uniti dato estremamente importante per chi purtroppo è ancora in balia delle notizie dei dati e pensa che le borse si muovono nel medio lungo periodo grazie a questo non soltanto nel breve brevissimo riassorbendo poi spesso i movimenti o continuando il trend che dà l'evoluta ma va bene così ok abbiamo avuto delle richieste più basse rispetto alle aspettative di 220 mila quindi l'economia va meglio quindi i tassi più difficilmente verranno tagliati e questo non dovrebbe portare le borse a scendere se io vado su mib questa era la candelona delle 14 15 ok qui candela verde e continuazione di salita nonostante il dato non positivo per il taglio dei tassi quindi teoricamente negativo per le borse non è cambiato niente sono candele più o meno della stessa grandezza di tutte le altre anzi più piccolo rispetto ad altri movimenti come per dire la discesa che vi ho fatto vedere abbiamo preso live questa mattina e che andate in gain ok questa è un po la differenza tra tecnica 3 perché adesso parliamo del 3 non più del 2 risultati trade dati live come tutti i trade dati non soft trading tutti andati in gain tranne quelli non iniziati quindi cento per cento di percentuale per ora di trade corretti dati dal vivo durante la trasmissione e l'interpretazione dei dati che però in quanto negativi dovrebbero farci scendere invece e invece ecco voi dovreste fare una chio una cosa quando incontrate persone che vi fanno la live sui dati ok dovreste dirgli ok se saranno positivi saliamo scendiamo seconda domanda se saranno invece negativi saliamo scendiamo o rimaniamo fermi perché in realtà questa volta assolutamente fermi perché se no la live non ha alcun senso se io non ti so dire in base a che cosa succede a livello di dato se saliamo scendiamo a che cosa serve fare una live commentale in diretta con questa miseria di candele sia di qua che di qua e adesso finalmente il l'indice tedesco gira ma perché ve lo faccio vedere qua è vero siamo a 20 barre ma da qui potremmo essere serenamente a condizione necessaria sufficiente fatta per chiudere e inversione per che cosa per i cicli per i dati e la candela dei dati ha fatto massimi assoluti quindi su dax abbiamo fatto massimi con la candela dei dati poi adesso stiamo invertendo su mi abbiamo fatto massimi sempre 14 30 e continuiamo a salire a quindi la domanda che vorreste farmi in questo momento è tu che cosa hai raccontato nel gruppo premium relativamente al discorso dei dati ecco io sono una delle persone che si può permettere di farvi vedere questo in anticipo vi dicevo non rispetto che dato sarebbe uscito che cosa avremmo avuto ma rispetto a cosa mi diceva il tecnica 2 il tecnica 3 che cosa avremmo avuto otto minuti dati io e sei questo il gruppo premium 14 21 come vedete non è una cosa finta no c'è tutto questo è proprio il gruppo anche qui trovate le analisi di bitcoin eccetera 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 non è una roba impiastricciata o altro segnalavo che tecnica 2 dava continuazione di salita e infatti qui parliamo di dax ok la continuazione di salita l'abbiamo avuta abbiamo fatto il top poi con questa candela sta cambiando ok quindi qualsiasi fosse sarebbe stato il dato successivo io vedevo questo siamo però a 20 oa 30 barre di inverso quello che vi ho fatto a vedere stessa considerazione mi stessa cosa per ora continuazione di trend a rialzo e ci siamo vincolati continuazione di trend a rialzo sembra proprio che ci siamo vincolati questa sarebbe la ventitresima barra aspettiamo di vedere se ci dà la ventiquattresima se dovremo ahimè farlo iniziare da qui sarebbe molto strano io però continuo a rimanere della mia però vedete che se seguite chi vi racconta cosa potrebbe succedere durante i dati vi fa la live eccetera al coraggio di fare quello che ho fatto io e di raccontarvi che per noi si poteva continuare ancora a cercare top almeno per la candela successiva perché se non ve lo sa dire prima che arrivino i dati e in base a quello che dicono i dati sapete che qui utilizziamo questo metodo che si chiama analisi evoluta lo trovate su www.analisievoluta.com e se il dato è buono se il dato è cattivo a prescindere e noi abbiamo una direzione almeno per la candela successiva e chiusa la candela successiva sappiamo se continuare ad andare long oppure short a prescindere dal dato che uscirà in questo caso negativo però come avete visto su dax dopo aver fatto il top continuazione di salita si scende e su mib che cosa si fa si è trovato un altro top candela per ora verde e quindi che impatto c'è stato dei dati io non lo so ma so soltanto che chiunque entri nel gruppo premium può andare nella stanza mib dax smpx analisi e leggere quello che vi sto facendo vedere adesso con i risultati che abbiamo avuto con lo short in gain che ho dato live questa mattina con cos'era questo il video 20 no con questo video qua short sul mib con il tecnica 3 avevo dato anche un target è stato ampiamente centrata erano 70 punti di mib siamo andati anche ben oltre ok e questo è ciò che potete vedere su questo canale tutti i giorni dal vivo ok questo direi che è quanto per cui dati o non dati eccetera noi poco interessa vi ringrazio per il vostro tempo e spero in questo modo di farvi comprendere quanto un metodo statistico matematico non discrezionale sia molto più avanti di tutto il resto di ascoltare i dati per vedere se cambieranno di fare delle live non sapendo dire se si salirà o si scenderà dopo il dato se sarà buono se sarà negativo fare tante fare tante dare tante opinioni tanta fuffa no però stringi stringi schiacciamo long schiacciamo short e questo che manca a determinati a determinati appuntamenti ok ed è quello che invece trovate per dire suos of trading quando vi diamo live i trade e potete controllare se i trader hanno corretti o no i miei per ora tutti corretti statistica strana vero vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata lo mio solo lo sarà sicuramente perché adesso vado a vedere che cosa ci dà su mib perché su dax può essere già partita appunto uno short ma devo capire qui mi interessa confermare tutto quello che vi avevo già detto partenza di ciclo settimanale ok con almeno 48 bar come dicevo nei video precedenti ce l'abbiamo sfiorato il vincolo adesso voglio capire se vogliono chiudere l'inverso e non vi dico altro ci vediamo nel gruppo premium se vi farà piacere buona continuazione a tutti